SIGLA Mi spieghi quel coso come diavolo c'è finito lì dentro? Beh... Uno non può distrarsi un momento che rimane fregato per tutta la vita. Sono al quarto mese. Ragazzi, sbagliate! Se le tocca subito! Il licenziamento è effetto immediato, capito? Licenziamento. E ti libererai di me tanto verso l'interno. Io ho un piano. Mi servono delle alleate con te a tutto. NAPOLEONE! NO! hoş Grazie a tutti.